La modella argentina è tornata a casa dove sta recuperando le migliori condizioni con l'amore di CR7 e dei figli. Intanto sui social ringrazia l'ospedale. Georgina Rodriguez ricoverata quattro giorni in ospedale a causa di una polmonite. Come sta la fidanzata di Cristiano Ronaldo? Lo annuncia lei stessa con una storia su Instagram, dove si localizza Ariad con un mazzo di fiori portato dal figlio Cristiano Ronaldo Jr. Finalmente sono tornata a casa. Racconta Georgina Rodriguez sul suo profilo Instagram, dove solitamente condivide i momenti bella della vita con CR7 e i loro cinque figli. Questa volta ha voluto aprire anche un cassetto intimo e raccontare ai suoi 64 milioni di follower la malattia che l'ha recentemente colpita. Ho passato quattro giorni in ospedale con la polmonite. Ora sto meglio ma sto recuperando a casa con la mia famiglia. Georgina Rodriguez ci ha tenuto a spendere pubblicamente delle parole per l'accoglienza e il trattamento che ha avuto in ospedale. Si legge nella sua storia Instagram, devo dire un grande grazie a tutti i membri dello staff, ai dottori, agli infermieri e a tutti i lavoratori dell'ospedale. Si sono presi cura di me in modo meraviglioso e ne sono molto grata. Grazie di tutto per questi giorni.